Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, le avventure del recinio, dell'episodio numero 8. Le uova di gabbiano. Buon ascolto. Dopo che il re Swan si rese conto di essere obeso e incapace di volare, iniziò ad allenarsi duramente con degli esercizi fisici. Purtroppo però faceva tanta fatica ed era troppo per lui, perciò decise di passare i suoi giorni seduto sul suo trono, venendo servito nobilmente, senza ricevere preoccupazioni. Finché un giorno, Igor e il gabbiano, con sua moglie Bianca, andarono davanti al re Swan per chiedergli aiuto. Igor disse al recinio, Maestà, io e Bianca sappiamo che sta trascorrendo un brutto momento, ma ti supplichiamo, deve aiutarci. Mia moglie Bianca presto deporrà le sue prime uova e, per nostra sfortuna, durante la sera girano i topi. Aiutaci, Maestà, ti prego. Swan, nonostante era contrario, accettò di aiutare i due gabbiani, promettendogli che avrebbe protetto le loro uova da ogni minaccia. Questi sono i gabbiani e questo è il re Swan. Bene, ringrazio dell'ascolto, lasciate un like se vi è piaciuto, grazie alla prossima. Ciao da Simone. Ciao!